Serve una mano? Purtroppo ho bucato. Accompagno, venga. Molto gentile, grazie. Dove la porto? Al bivio a destra. Lì c'è un grosso olmo e sulla sinistra un casolare. Ah, al poggio. Ma lei come fa a saperlo? Non è di qui. Io no, ma mia madre sì. Sua madre? Come si chiama sua madre, scusa? Alma. Ah, Alma. Alma. Grazie a tutti.